Io non mi farei troppe illusioni. È la nostra unica possibilità. Chi siete? Mi chiamo Lily, lei è Rosalyn. Ci serve un posto per stanotte. È chiaro che sta scappando da qualcosa. Chi altro se la prenderebbe in casa? E se quel qualcosa la raggiunge qui? Ho la sensazione di non essere qui per caso. E col tempo riuscirò a capire il perché, perciò non dire niente. I tuoi segreti. Fa un po' come ti pare. C'è un segreto dietro l'amicizia. L'amicizia fra due donne. Ti voglio bene. L'amore fra due giovani. Mi vuoi sposare? L'affetto fra tre sorelle. È questo che ci dà forza. Venite a scoprirlo anche voi. Queen Latifa, Dakota Fanning, Jennifer Hudson, Alicia Keys, Sophia Okonedo e Paul Bettany. Fatevelo chiasso, devo studiare! La vita segreta delle api.